Come dicevamo un bel regalo di Natale per la città, speriamo che sia chiaramente volano di sviluppo e oggi la parola secondo me più importante è mantenere, mantenere a Messina una peculiarità che ci stavano come al solito scippando e quindi questo secondo me è una grande vittoria oggi per la nostra città. Chiaramente come è noto a tutti vi deve essere una compartecipazione, un impegno forte anche da parte della Presidenza della Regione, quindi chiaramente da parte nostra stiamo spingendo perché ciò accada, però il Presidente Musumeci deve fare un grande passo in avanti e verso Roma perché Messina non sia sempre il vaso di coccio tra i vasi di chisa, Messina ha una realtà, è caratterizzante il proprio tessuto economico rispetto a quelle che possono essere le potenzialità derivanti dalla zona economica speciale e pertanto in questa direzione chiaramente perché non ci fermiamo mai stiamo andando.